Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi carissimi telespettatori di Fano TV Come sempre siamo qui in diretta al mattino alle 7.30 per leggere i giornali, i titoli, le notizie pubblicate sui tre quotidiani con gli inserti della provincia di Pesaro e Urbino, ovvero il Messaggero, il Corriere e il Carlino Prima però vediamo il Santo del Giorno, oggi è Santirene del Portogallo, Martire Il sole è sorto alle 7.28, 3.18 e 18 minuti Vediamo il tempo che ci attende per la giornata di oggi Questa è la fotografia della nostra webcam con questo sole che sorge, si rispecchia dall'altra parte Il Chiarore, sembra quasi un tramonto, ma in realtà è un'alba E allora vediamo adesso la temperatura, 10 gradi 10 gradi non è poi così freddo, ma 10 gradi comunque si sentono Precipitazioni assenti per la giornata di oggi tranne nei settori meridionali della regione Mar Che per il resto avremo soltanto cielo variabile, nuvoloso, molto più nuvoloso rispetto alla costa sull'entroterra I venti sono nord-occidentali, il mare sarà mosso Attenzione alle foschie oggi o locali banchi di nebbia, soprattutto nelle zone dell'entroterra al primo mattino Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, avremo cielo parzialmente nuvoloso Con brevi piovaschi sparsi nelle zone interne, le temperature in marcata diminuzione, i venti moderati nord-orientali Il mare sarà mosso per giovedì 22, invece avremo cielo irregolarmente nuvoloso Con addensamenti maggiori nella mattinata e schiarite nel pomeriggio Sempre in mattinata avremo anche deboli precipitazioni sparse nelle zone dell'entroterra In esaurimento poi nel pomeriggio durante la giornata Le temperature sono in aumento, i venti nord-orientali sempre moderati Con rafiche e vento forte lungo la costa, il mare sarà molto mosso Per quanto riguarda i giorni successivi, i prossimi giorni avremo una probabile affermazione di un anticiclone Con tempo stabile per qualche giorno, qualcuno parla addirittura anche di temperature che saliranno Verso la fine del mese, ma ancora è presto per dirlo Allora, nei tre quotidiani naturalmente la notizia principale del giorno È la nomina direttore generale dell'azienda ospedaliera Riuniti Marche Nord di Maria Capalbo Questa è una notizia che troverete su tutti e tre i quotidiani naturalmente in evidenza È una nomina che è arrivata ieri, venerdì ci sarà la presentazione del presidente della regione Luca Ceriscioli Poi c'è la cronaca con il furto, il furto in stazione Ai danni di una donna americana che aveva con sé all'interno di un borsone 7.000 dollari, 600 euro in contanti C'è stato un momento di distrazione e un marocchino di 34 anni gliel'ha portata via Poi in bicicletta è andato verso Rosciano ma la polizia che era stata allartata dalla donna americana Appunto l'ha ciuffato subito, quest'uomo ha tentato di scappare via Ieri c'è stato il processo per direttissima Due anni di reclusione, una multa di 400 euro Pena sospesa ma il marocchino è già libero Quindi attenzione Andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino Domani si insediano Cristian Fanesi e Rosetta Fulvi Consiglio Comunale pronto alle due nomine Settimo assessore inutile, tra le polemiche dice l'ex sindaco Guzzi Sul presidente nulla è scontato, dice l'Udc Sugli scolmatori Bacchiocchi dice Spiega il collettore di via Pisacane va ripensato Il progetto, la destinazione non è il depuratore ma la foce del fiume Metauro Appesano invece altri fiumi, altri furti al fiume Foglia Altri furti dei motori nautici sul Foglia ma nella zona dove non c'è il Vigilantes Quindi significa che comunque, visto che negli ultimi tre anni Dicono quelli dell'Unione Fiume ci siamo attrezzati Le telecamere funzionano, forse è bene mettere sotto sorveglianza Anche il tratto dove sono avvenuti i furti Tanto per prevenire Ti chiediamo mille volte scusa Genitori di Daniel in visita a Gianluca Oggi la convalida dell'arresto Il difensore dice va scarcerato Il colpo è stato sferrato al collo Ha sfiorato la giugolare per meno di un centimetro Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di questi due ragazzi Tra l'altro amici che si conoscevano Si conoscevano già da tantissimo tempo A un certo punto questo Gianluca Pavone di 26 anni di Gabice Che ha tentato di difendere la ragazza dal suo fidanzato Con il quale stavano litigando Questo Gianluca ha subito un colpo con una bottiglia rotta al collo Insomma adesso è in ospedale I genitori dell'aggressore Sono andati all'ospedale Per incontrare il ragazzo Evidentemente si conoscono anche loro E hanno chiesto appunto mille volte scusa Per Capalbo A Marche Nord Presentazione di Luca Ceriscioli Nominato il nuovo direttore Venerdì la benedizione del presidente La pagina principale invece di Pesaro Eccola qui con la fotografia che riguarda L'abbazia dei misteri ovvero quella di Santo Maso della Psella Si conferma crocevia storico Emergono infatti capitelli longobardi e simboli templari Poi all'interno del giornale potrete leggere questa mattina Anche la nomina di Fabiana Alla Scavolini a fianco di Walter Ora c'è la figlia Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico La pagina di Fano Saranno rinnovati solamente due carri La decisione della carnevalesca Un budget di 370 mila euro Ma non più di 75 mila per le allegorie Finanziate anche tre mascherate Alcuni maestri della cartapesta Accettano le condizioni di Luciano Cecchini I Tineris fa il pieno con 1800 visitatori Il mare associato ai prodotti tipici Hanno collaborato 50 Tra aziende agricole e artigiani in 21 comuni La Colle Marathon invece è a rischio Per i tagli della regione Domani Montanari il patron della Colle Marathon Incontra il presidente delle Marche Ceriscioli Anche qui la cronaca con lo scippo ai danni di un'americana Poi l'artista Carboni dona un dipinto al Circo Mare Questa mattina alle 11 e mezzo alla Darsana Borghese a Fano Dove c'è la sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Verrà effettuata questa consegna di un'opera pittorica Realizzata e donata dal professor Sergio Carboni All'ufficio circondariale marittimo di Fano In occasione del 150esimo anniversario Dell'istituzione del corpo delle marinerie di Porto Spaccio e consumo nei guai finiscono 10 ragazzi L'azione della polizia di Fano Continua nel contrasto alla circolazione di stupefacenti Ci sono 3 denunce per spaccio E 7 segnalazioni di consumatori alla prefettura L'aeroporto di Fano La partecipazione del comune giova alla città Il sindaco in consiglio illustra il carattere strategico Della quota di proprietà all'interno della società Appunto che gestisce l'aeroporto La Fano Fortuna e i 5 Stelle però sono sempre critici E dicono attività, questa attività è un'attività commerciale Fa bene all'economia il tartufo a Pergola Fa bene anche al turismo Chiude la fiera del tartufo Il bilancio è positivo per i produttori Gli espositori e le associazioni Quest'anno i prezzi sono più alti Ma la qualità del tartufo è ottima E abbiamo lavorato molto bene A Senigallia invece c'è attesa, festa Trepidazione per il nuovo vescovo Che non è lui Questo è il vescovo ormai emerito Giuseppe Orlandoni In questa bella immagine Durante l'annuncio dell'arrivo del nuovo vescovo Il nuovo vescovo arriva da Crema Ed è Francesco Manenti E c'è un'intervista che questa mattina Il Corriere Adriatico pubblica Dopo quella di ieri al nuovo vescovo Questa mattina invece il giornale ospita Questa intervista a cura di Sabrina Marinelli Al vescovo emerito appunto Orlandoni Andiamo sull'ultima pagina del Corriere Quella che riguarda la pagina di Pesaro Capalbo, direttore di Marche Nord Ieri l'indicazione della giunta regionale Una nomina telefonata Ma anche contestata Subito il nuovo ospedale E via libera al ruolo dei privati L'osservatorio in gioco Dice il diritto alla salute di questa provincia L'ultimo giornale è quello romano Il messaggero con l'inserto di Pesaro Che qui in evidenza la nomina Il vertice donna, Marche Nord Oltre 750 mila euro invece ad Urbania Tre anni dopo la nevicata Fondi per riaprire due edifici storici La chiesa di San Francesco E il palazzo Ducale Mentre l'arrestato dice Non volevo fargli del male Un raptus, un demone incontrollabile Quello che gli ha oscurato la mente E armato la mano con la bottiglia rotta Con cui ha ridotto in fin di vita Un amico Con il quale, come dicevamo Si conosceva ormai da tanto tempo Il meteorologo invece Se volete approfondire le previsioni del tempo Per questi giorni Variabile ma senza pioggia Strana franata invece ad Orciano Entro febbraio verrà riaperta I danni stimati sono 400 mila euro E 4 mesi per riaprire la strada L'amministrazione comunale di Orciano Prova ad accelerare sui tempi Della riapertura della provinciale mondaviese Nel tratto di Viale Kennedy Disse stato dal grave crollo Di alcune settimane fa Sulla pagina interna del messaggero L'aeroporto, la pagina delle Marche L'aeroporto regionale Vicino all'Ok ai Russi Della Nova Porta Lunedì prossimo il Ministero Si deve pronunciare cargo La Catei Attiva un collegamento con Fiumicino Mentre sulla fusione Pesaro-Monbaroccio La regione sceglie la data del referendum Questa mattina i rappresentanti Del comitato del NO di Monbaroccio Saranno presenti Alla seduta Dunque andranno in trasferta ad Ancona Sull'ex a Pesaro Ex consorzio agrario Quell'area verso una svolta turistica Due palazzine con 70 appartamenti Una nuova strada E la stazione marittima Il nuovo look di Calata A Caio Duilio E i camion che trasportano gli inerti Verranno spostati nello spazio Tra i due porti Ma non subito Ancora dalla pagina di Pesaro Del messaggero Profughi a Colbordolo Ucchielli Dice Io non so nulla Sarà l'associazione incontri A gestire l'accoglienza Dei nuovi migranti In diversi comuni Della provincia Chiudiamo con la pagina di Fano Invece del messaggero Anche qui la carnevalesca Carnevalesca e carristi Prove tecniche di intesa Il nodo del contendere È la disponibilità di fondi Per realizzare i nuovi carri Le parti potrebbero trovare Già un accordo Attorno ad una cifra Di 110 mila euro Il sindaco Seri Si è ritagliato il ruolo di mediatore E al momento Resta guardingo La presidente Cecchini Dice Lavoreremo per raggiungere L'intesa Entro la settimana Tra 5 stelle giunta E polemica invece Sugli scolmatori Nel mirino Finisce il lungomare Di via Ruggeri Interessato alla realizzazione Delle nuove scogliere Anche qui poi la cronaca Ruba 7 mila dollari A una turista È stato arrestato E poi sopra ticket E prenotazioni visite File disagi Per gli utenti Intanto la Cisla Torna ad accusare Fano e Pesaro Sulla nebulosità Del progetto Dell'ospedale Unico Ed è tutto Per la segna stampa Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona giornata Grazie per averci seguito